Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare sulla rete autostradale della Toscana. Sulla statale 1 Aurelia ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni all'altezza di Capalvio a causa di un incidente. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla FIPILI possibili disagi per lavori tra la Strassini e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. La viabilità cittadina a Firenze in via Baracca per la realizzazione della pista ciclabile. Fino al 6 settembre restringimento di carreggiata tra via Dotto dell'Indiano e via Pistoiese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.